Senti caragnetta, cosa ne capita, ne capita una carta, e sono richiamato, ne capita una carta, e sono richiamato. Se sono richiamato, prego al Sassica, tra quattro o cinque mesi, mi vengo congelà, tra quattro o cinque mesi, mi vengo congelà. Senti caragnetta, il vero ci fornà, sali sulla carta donna, a lì n'ho canta, a lì n'ho canta.